Il racconto intimo e autentico del processo creativo di un musicista in stato di grazia. A 50 anni dall'incisione dell'album Imagine, in prima visione su Rai 5, uno straordinario documentario in lingua originale su uno degli album più iconici della storia della musica, Gimme Sunfrut, mercoledì 14 aprile alle 21.15, Rai 5.